Curare l'Archiano dalle ferite delle alluvioni e delle piene. Oltre 200.000 euro per sistemare le opere idrauliche realizzate dopo le alluvioni del 1966 e del 1992. Si tratta di una delle più importanti operazioni di sistemazione di opere di difesa spondale, di difesa dalle erosioni di fondo, a cui il corso d'acqua è stato sottoposto sino ad ora dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno. Sono state sistemate alcune opere idrauliche, a partire da valle e venendo verso monte, dalle soglie in prossimità della strada regionale 71 che risultavano scalzate dalle piene degli ultimi inverni. Sono state ricostruite in parte e in parte rincalzate per salvaguardare l'esistente, fino ad arrivare ad una briglia ricostruita a Camprena, sempre nel comune di Bibbiena, e infine all'intervento più massiccio che ha riguardato la ricostruzione di una sponda erosa in località Soci, in un'area che è un po' crocevia tra la zona industriale di Bibbiena, la ciclopista comunale e le coltivazioni Noccioleti e le altre coltivazioni che insistono lungo la sinistra idraulica dell'Archiano. Un intervento massiccio che ha previsto la ricostruzione di gabbionate esistenti che erano state divelte dalle piene degli inverni 2022-2023, che ha previsto l'inserimento di fondazioni in massi ciclopici da tre tonnellate e a salire tre ordini di gabbioni che sono stati ricostruiti utilizzando il materiale litoide presente in loco. Un intervento che poi prevederà ulteriori 100 metri dopo questi circa 100 metri di ricostruzione di gabbioni per il tamponamento di un'erosione che è avvenuta anche questa nell'inverno 2022 e che ha segnato l'Archiano per una lunghezza di 100 metri dove verrà fatta una risagomatura con un ringrosso e un rinterro e il tutto verrà battuto poi con un rullo in modo tale da ristabilire stabilità spondale ma anche la giusta larghezza di sezione al torrente.